Fuori dalla Champions League, ultimi in classifica e fuori da ogni competizione europea. Ce lo siamo meritato? In parte sì e in parte no. Io ritengo che questa sera si possa trarre un primissimo bilancio di questa stagione perché il Milan partiva all'inizio dell'anno per affrontare tre competizioni e la prima di fatto l'hai cannata stasera. Quindi delle prime considerazioni generali, secondo me, si possono anche fare. Voglio concentrarmi più su quello perché sulla partita, parliamoci chiaro, c'è poco da dire stasera. L'impegno c'è stato, ma ti sei ritrovato contro un avversario molto più forte di te e con tutte le assenze che avevi, se ti tradiscono anche i giocatori più forti che hai, cioè il Liverpool non diventa un ostacolo, il Liverpool diventa una montagna. E questo è quello che è successo stasera, questo ho da dire e basta. Perché non c'è molto altro da dire. L'impegno c'è stato, ce l'hanno messo fino all'ultimo, nonostante una squadra decimata dagli infortuni. Però, nonostante l'impegno, ragazzi, se Teo gioca in questo modo, se Chessy gioca in questo modo e se Tomori ti fa quell'errore lì, che vuoi fare? Beh, è chiaro che diventa impossibile. Sono i tre migliori che hai e stasera tutte e tre hanno cannato per vari motivi la partita. Poi hai voglia anche Brian Diaz, purtroppo. Poi hai voglia e Ibra. Poi hai voglia di affidarti a chi? Ragazzi, c'è stato l'impegno. Hai affrontato una squadra più forte che ha meritato. Punto. Ed è per questo che secondo me vale la pena concentrarsi più sulle sei partite. Perché è lì che si può fare una discussione costruttiva, per cercare di capire cosa non ha funzionato. Voglio fare quello, gli sfoghi, le madonne, le facessero gli altri. Voglio fare un discorso di un altro tipo. Perché il Milan non meritava di uscire? Perché io ho detto che il Milan in parte meritava di uscire. In parte no. Perché in parte no? Perché la squadra ha messo tutto in campo. Tutto, nonostante le assenze, nonostante tutti i problemi, nonostante tutti gli errori arbitrali che ci sono stati. E ci sono stati. Quindi questa squadra, un po' di fortuna in più, negli episodi, secondo me, se la meritava. Non è arrivata, amen. Se neanche gli episodi ti accompagnano, non ci puoi fare nulla. D'altro canto, però, se su sei partite ne hai giocate bene due e mezza, va da sé che ancora, evidentemente, non siamo pronti. Ma non c'è nessun problema ad ammetterlo. Io, questa sera, chiaramente sì, sono deluso. Speravo che succedesse qualcosa di inaspettato. Però, nel complesso, questa eliminazione in un girone del genere è uno step che purtroppo dovevamo mettere in preventivo. Perché non siamo pronti, l'abbiamo fatto capire in tutte le salse. Anche in quelle partite giocate un po' meglio. Andiamo ad analizzare. Contro il Liverpool, andate in ritorno, meritavano loro. C'è poco da fare. Contro l'Atletico, andate in ritorno, meritavi tu. Contro il Porto, andate in ritorno, meritavano gli altri. Questa è la tua Champions. Quindi, che vogliamo fare? Ok, ci appigliamo agli episodi. A Oporto, senza quell'errore dell'arbitro, magari il Porto non segnava. Ma la partita che hai fatto è quella lì. Hai subito 20 tiri in porta e ne hai fatti due. Errore dell'arbitro o non errore dell'arbitro. Quindi, dopo tutti questi anni di attesa, dopo tutti questi anni in cui la Champions l'abbiamo vista non col binocolo, proprio col telescopio, col telescopio proprio Omega, quello là che ti vede proprio le costellazioni di altri universi. e ragazzi, lo scotto lo paghi, l'impatto lo paghi e l'abbiamo pagato. L'abbiamo pagato. Oltretutto, lo ripeto, questa squadra, falcidiata dagli infortuni, secondo me poco poteva fare. È triste da ammettere, ma è così. Perché se non hai Leao, se non hai Rebic, nell'altra partita non hai Ibrahimovic, nell'altra partita non hai Kessi, nell'altra partita non hai Teo, nell'altra partita non hai Braindiaz, cioè a giro abbiamo quasi sempre avuto due o tre big fuori. In questo modo è impossibile. Ci sono squadre che negli anni passati, pur avendo avuto la squadra titolare quasi sempre a disposizione, il girone non l'hanno passato. Gironi anche più facili di questo, se vogliamo. Quindi che la Champions League sia un altro mondo, l'abbiamo capito. Che questa squadra debba crescere poi è evidente, perché per il campionato italiano bastiamo, siamo una delle squadre più forti. E con ogni probabilità ci andremo a giocare lo scudetto fino alla fine, soprattutto ora che abbiamo solo una competizione. Però la Champions è un altro livello, è un altro livello e ce ne siamo resi conto. E soprattutto, visto quello che è successo stasera, visto quello che è successo in queste sei partite, molti di questi giocatori che vanno a bussare alla porta della società per chiedere stipendi milionari da 8, 9, 10 milioni di euro, dovrebbero secondo me farsi un esamino di coscienza e dire ma io ho dato a questa squadra un contributo da giocatore che merita uno stipendio di quel tipo là? Probabilmente no. Probabilmente no. Quindi alla fine dell'anno bisogna anche mettere in chiaro delle cose, secondo me, sul progetto. Perché il Milan, secondo me, è stato molto bravo a gestire situazioni spinose come quella di Donnarumma e Cialanoglu l'anno scorso, come quelle di Chessier Romagnoli quest'anno. Il Milan le sa gestire bene queste situazioni che possono diventare spinose. Parlo dal punto di vista mediatico di questo parlo. È bravo, diciamo, a non far andare troppa pressione, a non far parlare molto di queste vicende. Però l'anno prossimo, secondo me, serve più chiarezza in quel senso lì. Cioè l'anno prossimo non puoi cominciare la stagione con dei giocatori che non sono pienamente coinvolti nel progetto. Per quanto siano forti, per carità, perché è chiaro che stiamo parlando di giocatori veramente forti, sicuramente tra i migliori di questa squadra. Però se vogliamo fare uno step di crescita dobbiamo cementare ulteriormente il gruppo e dobbiamo cementare la voglia soprattutto di credere in questo progetto. Perché molti giocatori ci credono, e tanto. Altri ci credono meno. E pensano più, secondo me, a cosa fare l'anno prossimo. Ecco, se chi vuole, chi gioca nel Milan, non deve pensare a cosa farà l'anno prossimo. Chi gioca nel Milan deve pensare al Milan. E deve pensare che il presente e il futuro sia il Milan. Se questa testa non c'è, io direi che a fine anno si può tranquillamente fare una linea e dire arrivederci. Poi, una volta fatto questo, questa squadra necessita di rinforzi. Non parlo del campionato, perché in campionato è un'altra cosa, l'ho già detto. Il livello non è quello della Champions League. In Champions League il signor Zlatan Ibrahimović, il titolare, non lo può fare più. Non lo può fare più. Mi dispiace. Non ha toccato palla. Stasera non ha toccato palla in tutte le precedenti partite. È stato sempre annullato. Sempre. Quindi, l'anno prossimo, non chiedo 30 milioni di mediano, 40 milioni di esterno. L'anno prossimo serve un centravanti. Forte. Io non sono uno che chiede investimenti. Non sono uno che chiede acquisti da 80, 90, 100 milioni. Non me ne frega un cazzo di ste cose. L'ho sempre detto. Ma l'anno prossimo, un centravanti forte, a prescindere dal prezzo e che possa rappresentare il futuro, serve. Ibrahimović te lo puoi anche tenere, se vuoi. Ma dobbiamo entrare nell'ottica che Ibrahimović deve diventare il centravanti per il campionato. In Champions League Ibrahimović non può giocare più per evidenti limiti di età. Non regge più quel ritmo, non regge più quel livello. Il campionato di Serie A è un'altra cosa. La Champions League è un'altra cosa. Senza nulla togliere a Zlatan, eh. È il mio giocatore preferito da quando si è ritirato Kaká. Quindi lungi da me dire che Zlatan è un... Non sto dicendo questo. Io amo calcisticamente Ibrahimović. Forse è uno dei suoi più grandi estimatori. Ma essere uno dei più grandi estimatori di un giocatore non vuol dire avere gli occhi foderati di prosciutto. Ibrahimović non è più adatto per determinate partite. E se vogliamo fare uno step, per forza di cose, questo step passa anche dal mercato. E un acquisto va fatto lì. Quindi, chiaramente, il mio sogno sarebbe Vlaovic. Ma non vi chiedo per forza Vlaovic. Un profilo del genere. Se dobbiamo fare un investimento, quello serve per me. Poi, in tutti gli altri ruoli, puoi continuare con questa linea che io sposo alla perfezione. Ma un sacrificio in quella zona di campo è necessario. Necessario. L'Inter svolta nel momento in cui acquista Romelu Lukaku. Romelu Lukaku cambia la storia recente dell'Inter e la porta a vincere. Al Milan serve un giocatore di quel tipo. Punto. Non c'è niente da fare. Non ci abbiamo più niente da ragionare. Serve un giocatore di quel tipo. Ed è evidente. Sotto gli occhi di tutti. Faccio questa riflessione. Perché dopo sei partite di Champions League. E dopo aver visto tutto quello che c'era da vedere il Milan in Champions League. Le mie riflessioni le posso trarre. E questo è quello che dico. Poi è chiaro. Si possono migliorare gli altri reparti. Anzi. Cioè. Molti altri reparti. Perché è chiaro. Non è che tutti i giocatori sono perfetti. O nel Milan futuribile e vincente. Sono tutti dei giocatori che rimarranno. È chiaro che no. Però. Il ruolo del centro avanti. Per come vedo il calcio io. È il ruolo più importante di tutti. E se non hai un giocatore che in determinate partite ti garantisce determinate cose. In termini di gol. Caratteristiche. Quello che volete. Purtroppo rimarrai sempre una squadra limitata. Quindi. Grazie Zlatan. Ti voglio bene. Sei il mio calciatore preferito e lo sei ancora. Ma bisogna acquistare qualcun altro in quella zona di campo. Punto. Questo è quello che penso della Champions League del Milan di quest'anno. Fatemi sapere qui sotto con un commento che cosa ne pensate. Un salutone. Sempre forza Milan. E ragazzi. Ora ci giochiamo il campionato. E speriamo di riuscire a portarlo in fondo. Buonanotte.